Musica All'iniziale, specialmente disegni, che è la prima edizione di Alghero Stumetto, un festival dedicato al fumetto e alle intersezioni con altre arti, illustrazione, musica, cinema, e che si terrà ad Alghero. L'obbligo è che questo sia un numero zero, un progetto, un laboratorio, di una cosa più ampia e articolata che prenderà il via a partire dal 2020. Musica 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 Musica